La scuola ai tempi del covid e così provveditore d'azienda sanitaria studiano la strategia. L'obiettivo infatti è quello di affrontare al meglio e senza troppe complicazioni per insegnanti, studenti e famiglie questa nuova emergenza sanitaria. Il direttore dell'ASL Antonio Durso e la neodirigente dell'ufficio scolastico provinciale Francesca Romana Ciangola hanno incontrato in videoconferenza i presidi delle scuole del territorio. Il rapporto con le scuole era aperto già da tempo, avevamo già fatto una serie di incontri come ASL. La questione è resa complicata dalle innumerevoli fattispecie concrete che si sollevano tutti i giorni e su cui ci confrontiamo dirigenti scolastici e personale dell'azienda unità sanitaria locale. Abbiamo condiviso alcuni impegni, alcune iniziative. I dirigenti scolastici devono curare molto la comunicazione col Dipartimento di Prevenzione, anche in orari e secondo modalità che non sono solite per il mondo scolastico. Il Dipartimento di Prevenzione deve rispondere alle richieste dei presidi e del personale delegato Covid in tempo reale, perché la comunità scolastica è una comunità importante, poi ci sono tutta una serie di fattispecie complesse come chi rilascia il certificato, quanto tempo ci vuole per rilasciare il certificato, cosa succede nei casi di studenti che seguono il tampone volontariamente durante il periodo di isolamento, cosa succede se una persona viene da un'altra regione italiana e frequenta una scuola del territorio regionale.